Non avete mai pensato? E a cosa? State ascoltando Pillole di Beat Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di questa nuova puntata di Pillole di Beat Usciamo il 31 di dicembre, quindi l'ultimo giorno di questo 2018 Quindi comincio con il farvi gli auguri di buon inizio 2019 Ma passiamo subito all'argomento principale di questa puntata Mi è venuto in mente perché ho parlato con diverse persone Un sacco di persone mi dicono sempre quando io dico Guarda io per fare questa cosa qua sul telefono o sul Mac o su Windows Ho comprato questa applicazione E quando sentono la parola comprato mi guardano con la faccia a forma di punto interrogativo Ma perché tu compri le applicazioni? Devo essere sincero sì, io le compro per alcuni buoni motivi Il primo è che diciamo che piratare le applicazioni è un po' vietato dalla legge Quindi non si dovrebbe fare Il secondo motivo perché a questo punto io ho un programma Che a me serve E per fare il quale qualcuno ci ha impiegato del tempo Qualunque sia questa applicazione Nel momento in cui la persona la rende disponibile gratuitamente Perché no, è gratis e la uso Ma nel momento in cui è un'applicazione che ha una funzionalità che a me serve E costa Io devo mettere sul piatto della bilancia il classico cost-beneficio Vale la pena di spendere questi soldi Che possono essere da un dollaro a 500 dollari O in euro a seconda del mercato dove stiamo acquistando Per risolvermi questa necessità che ho io È una cosa che vale la pena fare per davvero Oppure sto solo buttando i miei soldi Ma soprattutto Perché io dovrei pagare qualcuno Perché ha sviluppato un software La prima cosa è che per gestire un software Ci sono delle spese Per esempio se uno vuole vendere sull'app store Deve farsi l'abbonamento che costa 100 euro all'anno E ovviamente se non ci rientra che cosa se lo fa a fare La seconda cosa è che È corretto che quando uno fa un lavoro Venga in un qualche modo ricompensato Voi immaginate Andate dal meccanico Perché avete un problema sulla macchina Il meccanico ve lo risolve E voi gli date dei soldi Mi sembra tutto sommato normale Perché non si può fare una cosa simile per Avete una necessità Trovate l'app che fa al caso vostro Vi risolve quella necessità Perché non gli dovete dare dei soldi Dopotutto è come il meccanico Non è una roba sull'automobile che è fisica Ma è una roba sviluppata su un computer Che è molto meno fisica Ma fa esattamente le stesse cose Ancora un'altra cosa che si può pensare E ma porca miseria Adesso tutte le app sono con un abbonamento Perché devo pagare un abbonamento per un'app? Devo continuare a pagare Anche se io l'app la voglio solo comprare Per alcuni motivi Il primo motivo è che da sempre Il software non si compra Il software se voi leggete tutte le licenze d'uso È concesso in licenza Quindi tu stai pagando Per avere la possibilità di usarlo Ovviamente il software resta mio O comunque di chi lo vende Non si trasferisce la proprietà Infatti per esempio non si può vendere Una licenza software a terzi Chi si vuol comprare il software Lo compra dal produttore Perché devo pagare un abbonamento Per poterlo usare? Guardatela un po' come l'affitto della casa Perché devo continuare a pagare L'affitto della casa Per poterci stare dentro? Perché se non lo paghi ti buttano fuori Perché devo continuare a pagare dei soldi Per poter usare una applicazione? Banalmente perché Chi ci sta lavorando Ci sta mettendo mano Più e più volte Perché c'è qualcuno che commenta E dice Guarda mi piacerebbe avere questa funzione in più C'è il sistema operativo che cambia Voi pensate a chi aveva sviluppato le app su XP E poi le ha dovute convertire su 7 E poi le ha dovute convertire su Vista E poi su 8 E poi su 10 Eccetera Comunque è del lavoro che va fatto Ovviamente se io ho comprato Un'applicazione che non viene più aggiornata A un certo punto non avrò più le sue funzionalità Se io pagassi un abbonamento Non me la dovrei ricomprare da zero Ma con l'abbonamento arrivano tutti gli aggiornamenti di funzionalità Che secondo me è una cosa corretta Le persone ci lavorano E in questo periodo La tecnologia corre talmente tanto Che chi sviluppa deve lavorare tantissimo Per far funzionare la sua applicazione E quindi Visto che questa cosa mi è anche venuta in mente Perché sto facendo da beta tester Per alcune applicazioni di Alex Racuglia Voi lo conoscete Perché l'ultima puntata l'abbiamo fatta insieme Ne ho fatte altre insieme con lui Lui fa degli altri podcast Fa Tecnopills Gestisce un po' la questione di Runtime Radio Quello che in effetti fa anche E forse si sa molto meno E che lui sviluppa delle applicazioni Molte delle quali io le uso Ho conosciuto Alex Perché ho cominciato a usare Il suo pod cleaner di qualche anno fa E lui faceva l'applicazione E noi come podcast Gcookies L'abbiamo acquistata Non mi ricordo più A 4-5 euro forse E poi ci siamo messi in contatto con lui E ne abbiamo parlato Adesso io faccio da beta tester Per una serie di applicazioni Per Mac e per iOS Che lui sta facendo E facendo da beta tester Parli un po' dello sviluppo Scopri il lavoro che c'è dietro Bene a questo punto Oggi gli ho chiesto Senti ma perché ti sei messo A sviluppare una applicazione E hai pensato di venderla Quando le tue entrate le hai già E sviluppare per te è solo Tra virgolette un hobby E lui mi ha detto Ma sai che ti rispondo subito E mi ha fatto l'audio Che vi metto in coda subito Ciao a tutti Ciao Francesco E ciao a tutti i tuoi ascoltatori Vorrei prima di tutto Ringraziarti per l'opportunità Di chiacchierare Soprattutto l'opportunità Di chiacchierare con te Per questa tua trasmissione Che ascolto sin dal primo numero Dalla prima uscita E che devo dire Che tu lo sai bene Mi ha ispirato non poco E ti ringrazio moltissimo Per questa domanda Che mi hai fatto Perché mi permette Di raccontare La mia piccola parte di storia Io faccio un lavoro Insomma Io mi occupo di video E di produzioni audiovisive Nel senso che io faccio video Nella vita Sono Ufficialmente Sono un regista Di spot televisivi E' uscito da poco Il mio spot televisivo Che potete vedere Su tutte le trasmissioni E' uscito da poco Il mio spot Che potete vedere Su tutti i canali nazionali Un bel colpo di fortuna Farlo Però nella mia vita precedente Ero uno sviluppatore di software Ho studiato ingegneria informatica Sono un perito informatico Mi sono sempre divertito Con i computer E ho sempre utilizzato Il computer Come uno strumento Per fare delle cose E nel corso degli anni Soprattutto negli ultimi anni Ho utilizzato il computer Mi sono scritto Di piccoli tool Delle piccole utility Che mi permettono Di velocizzare Certi miei lavori Sia nel video Che nell'audio Perché Quando si fa video Una delle cose più importanti E' proprio la parte sonora Che è la parte Che coinvolge più La nostra parte emotiva E anche E anche quella che Rappresenta Lo scoglio più difficile Cioè Quello che differenzia Un video materiale Da un video professionale E' proprio la componente La componente del suono Vabbè ma questo Sono altre Sono altri Questa è un'altra storia Dicevo Io Mi sono scritto dei tool E a un certo punto In un momento di Probabilmente di megalomania Mi sono detto Che potevo anche Insomma Che questi tool Erano cose Che potevano essere utili Agli altri Il primo Il primo che ho sviluppato È stata un'app Cinque o sei anni fa Se non sbaglio Un'app per ipad Mi è venuta in mente Una sera Di tipo di insonnie Quella che allora Mia ragazza Ma adesso mia moglie Dormiva con me Le dormiva della grossa Io non riuscivo a dormire Io non riuscivo a dormire Mi sono detto Sarebbe bello Che ci fosse un'applicazione Del genere Ma sicuramente L'ha già fatta qualcun altro E il giorno dopo Ho cercato per giorni Per ore Che qualcuno Che se fosse fatto Una cosa simile Non l'ha fatto nessuno Mi sono detto Sapete che c'è Lo faccio io È stata un'applicazione Che abbiamo venduto L'ho proposta Alla mia azienda Nel senso Visto che In un periodo Relativamente di stanca Posso sviluppare Il mio tempo libero Ci ho messo Tipo 25 volte più Il tempo Che avevo pensato Di metterci Anche perché Allora ero Ero giovane E inesperto Alla fine L'abbiamo venduta Ad un prezzo Non indifferente Soprattutto perché Le applicazioni Per iPad costavano 99 centesimi Se non gratuite Insomma Quella costava Qualche 10 dollari È stato un esperimento Interessante E il motivo Per cui L'abbiamo venduta E non l'abbiamo regalata È per giustificare Il fatto di investirci Del tempo Di soldi E delle risorse In fase di azienda Dopo di quello È stato un esperimento Che è riuscito Più o meno a metà Nel senso Non siamo diventati ricchi Ma Insomma È stata una cosa interessante Abbiamo imparato Un sacco di cose Mi sono mosso da solo Di conseguenza Seconda attività Se mi si chiede Perché le vendo E non le regalo Perché no Non sono ricco di famiglia Non sono una persona Particolarmente benestante Sono uno normale Uno come tutti gli altri E mi sono detto Che se io metto Un certo impegno In questa cosa Che sto facendo Che comunque vivo Come un secondo lavoro Anche come un hobby Mi sembra carino Riuscire a A riguadagnarci qualcosa Non credo che I soldi che guadagnerò mai Con la vendita di app Saranno pari Al tempo che ci ho dedicato E alle risorse E agli investimenti Perché comunque Sviluppare delle applicazioni Costa dei soldi Magari soldi indiretti Però avere un sito internet Avere gli strumenti Avere altre applicazioni Che ti servono Per scrivere queste app Non è una cosa indifferente Però uno potrebbe dire Vabbè anche giocare a calcetto Costa dei soldi E non ti fa guadagnare È vero Nel mio caso Lo faccio Probabilmente Boh Per vari motivi Un motivo potrebbe essere L'ingordigia Ma non credo che sia quello Perché probabilmente Potrei fare più soldi Andando a fare il cameriere Non che Niente contro il cameriere Anzi Figuriamoci Sono Rispetto tantissimo Le persone che hanno a che fare Con le altre persone Sono Per certi versi Sono un po' poco Ho poco empatia umana Nel senso che Faccio molta fatica Ad avere a che fare Con le persone Sono molto timido Mettiamola così E lo faccio anche Per giustificare Il fatto che Io ho una famiglia E quello che faccio Lo faccio Sia per me Che per Che per la mia famiglia E il fatto di riuscire Ogni tanto A dire Sai che c'è Questo mese Non lo succede tutti i mesi Ma questo mese Mi sono pagato La rata del mutuo Facendo questa applicazione E ho detto Cavoli Cavoli È figo Cioè nel senso Da un senso E da un significato Un sacco di cose Può essere Non può essere Per adesso Per me È una professione Al 100% Lo è al 20-25% Mettiamo Forse anche di meno Perché Per farlo diventare Una professione Veria e propria Dove smettere Di fare tutto il resto E fare solo questo E non riuscirei A fare dipendente Fare dipendente Significa dedicare Il 70% Delle proprie risorse Sia di tempo Che di Che energetiche Nel marketing Non è una cosa Che voglio fare io A volte il marketing Può essere divertente Nel senso Raccontare agli altri Quello che hai fatto Come sto facendo In questo momento Anche se non mi sembrano Una mossa di marketing Vi sto solo raccontando Quello che faccio A volte invece È un'artura di scatole E a me Preferisco farle le cose Poi Se un giorno Troverò qualcuno Che vuole venderle Insieme a me È ben contento Anzi se qualcuno Che mi ascolta Lo vuole fare Sono Sono molto felice Detto questo Credo che sia Sviluppare le applicazioni Costano un sacco di soldi E considerate il fatto Che anche quando Comprate un oggetto Che costa 99 centi Questo oggetto vale molto di più Che questi 99 centesimi I 99 centesimi È un valore Che è stato fissato dal mercato Dopo un po' Perché il mercato è Crollato Imploso su se stesso Generando Cioè causando Che secondo me La morte È la fine Del 90-95% Di gruppatori indipendenti Quando andate su uno store E vedete delle applicazioni Quelle che sono vendute Tantissimo sono i giochi E vabbè Fanno parte di un'altra categoria Le utility Spesso e volentieri Non si ripagano Non ripagano i costi Uno può dire Quanto vale una mia ora Vale 10 euro Per esempio Se voi pensate A quante ore Impiegate a sviluppare Un'app Anche semplice Magari ci impiegate 250 ore E già diventano 2500 euro Significa vendere Ne 2500 Uno potrebbe dire 2500 con Due miliardi Di telefoni installati Sì Però Ci sono due miliardi Di telefoni installati Ci sono due milioni E mezzo di applicazioni In vendita Ed è difficile Che la vostra Arrivi proprio Sotto gli occhi Delle persone Che potrebbero essere Interessate Senza una campagna Di marketing Che può costare Tantissimi soldi Per cui Le sviluppate Difficilmente Ci campano O ha un'idea Geniale Eccezionale E o la realizza In maniera Perfetta Ma senza Un apparato Di comunicazione Che è la cosa Più importante Non arriva da nessuna parte Io una volta Vivevo gli sviluppatori Come gente Che non ci vuole Di fare un cazzo Però in realtà È gente Che ha delle grosse Difficoltà In un mercato Molto complesso E in un mercato Che è anche drogato Di alcune cose Eccezionali Ma di tantissime cose Mediocri Che hanno abbassato Il valore Complessivo Se voi aprite Se voi aprite uno store Di un telefono cellulare Che sia un android Che sia un ios O il defunto Microsoft Guardate Guardate quelle applicazioni E ce ne sono tantissime Che non servono Assolutamente niente Ce ne sono assolutamente Inutili E molte applicazioni Sono anche Le stesse cose Ricicciate n volte Magari cambiando Soltanto la grafica Per dirvi Io ho un'applicazione Che fa Che fa dei conti Non voglio pubblicizzarla Non mi interessa Ecco quando io cerco Un contatore Non arriva la mia applicazione Prima di la mia Ne arrivano circa Una cinquantina Di contatore di calorie E uno potrebbe dire 50 applicazioni Che contano le calorie Che sono quelle Che vengono prima di me Quelle dopo non le guardate E cavoli Sono tante E c'è bisogno davvero Di 50 applicazioni Che contano le calorie Cioè Cos'è che ha Ognuna di queste Che è migliore delle altre Secondo me C'è spazio per 12 Applicazioni del genere E invece 50 Per una cosa così Come il conto delle calorie Immaginatevi Tutto il resto Una volta volevo Prendere spunto Per fare dei grafici Mi serve ogni tanto Fare dei grafici Proprio gli histogrammi Avete presente E ho cercato grafici Così per capire Ho trovato Un centinaio di applicazioni Di conversione di valute Ora Cento di applicazioni Di conversione di valute Di cui la metà Sulle criptovalute Sono Veramente Tantissime applicazioni Che non hanno Veramente Tanto senso di esistere Magari sono Assemblate in 5 minuti Mettendo insieme 3-4 risorse Che uno può copiare In collara Da qualche parte Cioè di versioni Completamente originali Ce ne è veramente poche E queste poche Secondo me Vanno premiate In qualche modo O acquistandola O pubblicizzandola O interagendo Con lo sviluppatore Non lo so Però questo è un discorso Che ci porterebbe Lontano Il mercato è A questo punto Traverete Drogato È difficile Competere È difficile Emergere È difficile Anche sopravvivere Ed è una cosa Interessante Però Con queste informazioni E con quelle altre Che verrà dato Sicuramente Francesco Capirete che Molto spesso Fare lo sviluppatore Indipendente Significa O poterselo permettere O potersi permettere Di fare una cosa Per hobby E di dare un sorta Di valore Economico Al prodotto Che si realizza Come una sorta Di voto Che si ha in cambio Nella vita Difficilmente uno Ha dei voti Per cui Anche il soldo Che uno guadagna Può essere una cosa Più o meno Più o meno Insomma Anche il soldo Che uno guadagna Può essere una cosa Una sorta di metrica Di quello Che può pensare Di se stesso Detto questo Ringrazio Francesco Ringrazio tutti voi Ascoltatori E visto che siamo All'inizio dell'anno Vi auguro un buon 2019 Un 2019 sereno E allegro E più dolce Per tutti Grazie Bene Ringrazio moltissimo Alex Uno per la disponibilità Due per la velocità Tre per la chiarezza Che secondo me Può farvi capire Il perché Quando Voi usate Un'app State usando Del lavoro Fatto da qualcun altro Ed è corretto Che questo lavoro In qualche modo Venga pagato Che dire Si può chiudere Questa puntata qua Sulle applicazioni Mi raccomando Non piratate Le applicazioni Se non sapete Se l'applicazione Fa al caso vostro Un sacco di applicazioni Hanno il periodo Di prova Voi la scaricate La usate E se non vi piace Non la acquistate Se vi piace Ve la acquistate E sicuramente Ne avrete Un vantaggio Una piccola cosa Che non ho detto Prima E che Mi riallaccio Al discorso Dell'abbonamento Ormai Un sacco di applicazioni Funzionano Perché si appoggiano A qualche tipo Di server Per fare Qualunque tipo Di funzionalità Ecco Mantenere I server Costa Soprattutto Se devono Avere Determinate funzioni E Visto che Il signor Amazon Con AWS Vuole I suoi soldi Mese per mese E' corretto Che Per una funzionalità Che usate voi E che sfrutta Un server Anche voi Dobbiate pagare Mese per mese O anno per anno Tenendo conto Che Si fanno un sacco Di spese Delle quali Non ci si pensa Neanche Si fa benzina E la benzina serve Perché ci si deve muovere Secondo me Il fatto di pagare Per una applicazione Ci fa sicuramente Pensare A quali sono Le applicazioni Che ci interessano Rispetto alle altre E quali Noi Per le quali Noi vogliamo Spendere veramente Dei soldi Bene Ho davvero chiuso Allora Diciamo che Vi ringrazio per Tutti gli ascolti Di quest'anno Perché sono stati Davvero davvero tanti Spero che Crescano Ancora Vi auguro Di nuovo Un buon Inizio Di 2019 Dal 2019 Voglio fare Un po' Di cose nuove Innanzitutto Nelle prossime puntate Ci sarà una novità Che appiccica Ma ve la racconterò Più avanti Quando sarò Pronto E poi Il 3 gennaio Che è giovedì Di social Vi darò Un link A un gruppo telegram Dove Inserirsi Dove io vi fornirò Il link Per la videoconferenza Sarà una roba Di un'oretta Un'oretta e mezza E il tema Sarà specifico Sulle reti di casa Visto che nel gruppo telegram Si parla tantissimo Di VPN Gestire gli indirizzi La rete per gli ospiti E queste cose qua Voi mi fate le domande Io per quello che riesco Vi rispondo E cerchiamo Di parlare Di questa cosa qua Non prendetela Come una consulenza Professionale Da portarvi poi Al lavoro Se ne avete bisogno Di qualcosa Di professionale Chiedetemelo Via 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 canali privati Vi ricordo Che io sono contattabile Potete trovare tutti i contatti Sul sito Pillole di bit Col punto prima dell'it Dove c'è Il gruppo telegram C'è L'account twitter C'è la mail La pagina facebook Eccetera C'è anche il link Per le donazioni Che se questo podcast Vi piace Secondo voi Vale qualche cosa Potete fare una donazione Perché oltre a sviluppare le app Anche mantenere un podcast Ha i suoi costi Sembra che sia tutto quanto gratis Ma non è vero A questo punto Ancora grazie per ascolto Ci sentiamo Alla prossima puntata Che sarà nel prossimo anno Ciao ciao This podcast is edited with producer Discover more at ultimedia slash producer ULTI dot media slash producer PODUSCER 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 Grazie a tutti.